ciao oggi sono a ruda e voglio farti vedere un appartamento al primo piano ma con un giardino al piano terra dai andiamo a vederlo un giardino al piano terra dai andiamo a vederlo un giardino al piano terra dai andiamo a vederlo un giardino al piano terra dai andiamo a vederlo un giardino al piano terra dai andiamo a vederlo